Un favore alle banche? Pensiamo altrimenti anche su questo tema per tre motivi. Che è il titolo del libro di Fusaro. Il primo è un po' la stella polare di quello che dobbiamo fare a mio giudizio. Primo punto, perché io sono contro questa sostituzione organizzata della cartacea e della moneta a favore delle carte. In 30 secondi. 30 secondi. Primo, perché in questo modo a guadagnare sono le banche e il sistema finanziario. Secondo, perché vi è una sorta di panoptico controllo costante degli individui. Sai dove vanno? Panoptico. Controllo totale. Ecco, è un tema fucoltiano. Controlli sempre gli individui dove sono, cosa consumano, cosa fanno. Cioè li vuoi tracciare. Terzo, favorisci i processi di indebitamento. Cioè con queste carte tu anche se non hai il contante ti indebiti. Fai la fine dell'homo indebitatus, che è il nuovo paradigma già valido in America. Dove si indebitano e restano indebitati a vita. È il sistema della schiavitù moderna al debito, diceva Ezra Paolo. Ma l'altro è il contante? È utilizzare giustamente, la giusta misura come in tutte le cose. Contante e carte senza che uno prenda il sopravvento. Il sopravvento. Brasi. Guardi io credo in un...